Un calo della quantità delle uve rispetto allo scorso anno, ma una vendermia oltremodo soddisfacente dal punto di vista della qualità, che lascia presa a giro un prodotto eccellente. Sono queste in sintesi le considerazioni rilevate fino a questo momento dal consorzio di tutela Vinidoc Sicilia, che riscontra in media un 15% e meno di uva prodotta, che scende anche oltre il 20% in alcune aree, in controtendenza dunque a gran parte d'Italia. Da ottobre le precipitazioni in Sicilia sono state superiori del 20-25% rispetto allo scorso anno e in generale rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Tuttavia, il forte caldo registrato a giugno, in un momento delicato per lo sviluppo delle dimensioni dell'acino dell'uva, ha inciso sul suo calibro e ha comportato cali di resa in termini di quantità. Bacca piccola fa buon vino, sottolinea Antonio Rallo, presidente del consorzio di tutela Vinidoc Sicilia, ed è resto il percorso dell'uva a partire dalla fioritura è stato buono. Ci aspettiamo che la qualità, grazie alla gestione attenta dei vigneti e anche dell'irrigazione, sia certamente sopra la media. Le considerazioni del consorzio sono in linea sull'aspetto qualitativo, con le previsioni vendemmiali dell'osservatorio Assuenology, Ismea e Unione Italiana Vini, presentate nei giorni scorsi al Mipaf. Per quanto riguarda la qualità, si aspettano vini eccellenti in Sicilia. Si protrerà ancora intanto la vendemmia più lunga d'Italia, che parte a fine luglio dalla costa occidentale dell'isola, spostandosi gradualmente verso sud-est e per poi concludersi a ottobre inoltrato sui rilievi più alti.